Nuova puntata per fare il consueto reso conto della giornata finanziaria, giornata che devo dire la verità è stata positiva non quanto ieri, giornata straordinaria ieri, ma sicuramente ha ribadito che forse c'è una inversione di tendenza dopo gli ultimi dati ieri sull'inflazione. Oggi l'S&P 500 è arrivato praticamente a 4.000 punti per poi ritracciare un po' alla fine e chiude poco sotto i 4.000 punti che potrebbe diventare anche una forte resistenza. Andiamo a vedere un po' le notizie di oggi. Beh, oggi sicuramente sulla scia di ieri sono andati molto, molto, molto bene le aziende tecnologiche, praticamente quasi tutte e soprattutto hanno guadagnato tanto più o meno quelle che hanno guadagnato bene ieri, tipo Shopify, giusto per citare la prima che anche oggi ha guadagnato un 8%. Interessante è anche Nike che guadagna un 6,65% e chi guadagna, proprio per ribadire il concetto che ho fatto poco fa, beh, sono le aziende legate ai semiconduttori, Nvidia e AMD che oggi guadagna 5,64%, Nvidia 3,72%, SML 2,8%, Intel 2,23%, beh come vedete bene o male tutte le aziende legate ai semiconduttori davvero guadagnano tanto. Guadagna anche un bel po' ExxonMobil che da un po' perdeva visto che stava perdendo il petrolio, invece oggi c'è stato un ribalzo del petrolio e anche la più grande azienda americana guadagna il 3,11%. Per ritornare alle aziende legate ai semiconduttori, anche l'azienda di Taiwan, Taiwan e il semiconduttore, ebbene guadagna il 4,23%. Bene anche Amazon oggi, ebbene c'era praticamente, arriva praticamente la conferma che ci sarà un avvio di un piano praticamente sul contenimento dei costi e questo praticamente l'ha confermato il CEO Andy Jesse, praticamente ha detto che ci sarà una revisione delle spese e questo chiaramente ha fatto molto ma molto bene al titolo in borsa che dopo aver guadagnato molto bene ieri, anche oggi guadagna un 4,33% come rimbalza un po' anche Walt Disney con un più 5% e anche Netflix con un 5,50%. Come detto guadagnano un po' tutte le aziende tecnologiche ma anche quelle dell'S&P 500 si difendono davvero molto bene, è una settimana davvero grandiosa per quanto riguarda l'azionario americano, invece per quanto riguarda casa nostra, in queste ultime 6 sedute quindi praticamente mese e mezzo, l'istino italiano ha sempre sempre guadagnato, praticamente è stata una delle migliori borse al mondo nell'ultimo mese e mezzo e anche oggi, devo dire la verità, non c'è poco da lamentarsi perché comunque ha chiuso in positivo, andiamo a vedere un po' di titoli, la migliore blue chips è Saipen con il 6,7%, questo sulla scia che dicevo prima, dell'aumento del petrolio, del prezzo del petrolio, a 2A più 3%, ha chiuso il trimestre con 445 milioni di EBITDA in rialzo del 70%, il risultato è sopra al consenso degli analisti che era fermo a 310 milioni, la società comunque ha rivisto anche al rialzo le previsioni per fine 2022. Moncler più 5%, grazie alla notizia arrivata dalla Cina, quindi cambieranno un po' le regole sulla questione del Covid, quindi bene anche l'altra azienda di lusso italiana Ferragamo con un più 8%, bene anche Azimut più 4,6%, Amplifon più 3,5%, CNH più 3%. Chi va male invece oggi è Tim perché la Repubblica ha scritto che Casa Deposito e Pestiti potrebbe guidare la cordata interessante a presentare l'offerta per l'acquisizione, di solito veniva sempre premiata su questa notizia, evidentemente questa volta non è tanto buona, Snam meno 3,6%, Terna meno 3%, Pismian meno 2,6%. Ragazzi con questo è tutto e come al solito ci sentiamo nel fine settimana per parlare sempre di temi molto molto interessanti, quindi appuntamento alla prossima.